Meno 8%, questa è la percentuale di quanto il PIL abruzzese ha perso nel primo semestre del 2020 e con il rinnovarsi delle misure restrittive il dato potrebbe ancora peggiorare entro la fine dell'anno. Questo è il danno all'economia abruzzese secondo l'ultimo rapporto Svimez, nel quale la nostra regione è comunque in linea con le altre del mezzogiorno. Sono diminuite le vendite e gli investimenti e a patire è soprattutto il settore terziario. Soffrono turismo e trasporti, ma anche l'edilizia, nonostante il super bonus 110%. E se da un lato è aumentata la domanda di accesso al credito da parte delle imprese, anche grazie alle garanzie fornite dal pubblico, dall'altro è diminuita la richiesta di mutui da parte delle famiglie. Inoltre, stando a dati forniti da Intesa San Paolo, in perdita anche l'export abruzzese, meno 6%, fatta eccezione per il comparto agroalimentare, che durante il primo semestre del 2020 ha aumentato le esportazioni con picchi anche del 25%. Noi abbiamo un calo del PIL per tutto il 2020, però riferito con un'analisi, una stima del primo semestre, che è intorno all'8,3%. Tutto lascia presumere che con questa seconda chiusura, questo dato negativo, posso ulteriormente andare verso l'alto e quindi chiudere con 10, l'11% in meno, che significa in termini così monetari, significa oltre 4 miliardi di perdita di benessere collettivo, di produzione collettiva. E questo è il primo dato. Il secondo dato è quello relativo al calo dei consumi, che sta diventando sempre più imponente. E direi che questo calo dei consumi noi lo possiamo verificare anche facendo un riscontro col sistema bancario. Cioè l'Abruzzo è una delle regioni dove i depositi bancari sono aumentati notevolmente. Addirittura, per fare un esempio concreto, la provincia di Teramo è al quinto posto in Italia. È un dato davvero significativo perché poi questi sono capitali tristi, sono capitali che non vengono impiegati, ma che stazionano nel sistema bancario in attesa che vengano ripresi. Quindi questo dato testimonia di un'attesa ancora più accentuata sul livello dei consumi per quanto riguarda questa caduta di questo aggregato. E poi abbiamo come ultima testimonianza di questa difficile situazione dove appunto la crisi sanitaria sta diventando sempre più collegata alla crisi economica e riguarda questo che è il nostro fiore all'occhiello, cioè l'automotive, dove qui già registriamo nel primo semestre un meno 16%, però siccome tutte le filiere produttive si sono praticamente interrotte chiaramente dobbiamo aspettarci per il fine dell'anno un indicatore ancora più difficile. Quindi è una situazione davvero complessa che testimonia che c'è l'esigenza in questa fase di immettere risorse nel sistema economico in debito, in deficit, come dir si voglia, ha poca importanza. L'importante è che appunto ci sia liquidità, soprattutto in alcuni settori che stanno vivendo una situazione direi a questo punto drammatica.